La vittoria contro Perugia 3-1 è stato un vero e proprio braccio di ferro, sette combattutissimi. Sì, 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 ovviamente i parziali hanno dimostrato che era una partita tiratissima. Lo sapevamo perché Perugia veniva di, non lo so, dieci partite vinte, non lo so, però erano in grande forma. Poi noi abbiamo questo mese di dicembre che è molto difficile, quindi era una partita tesa sicuramente che alla fine abbiamo portato i tre punti e la cosa è più importante. Pochi palloni hanno fatto la differenza alla fine, no? Sì, quando ci sono due squadre di alto livello così, quando si ricorda lo Scudetto si gioca su due palloni, la pallavolo di alto livello è così, quindi oggi li abbiamo vinti noi e questo ci dà una grande boccia d'aria. Avete tenuto molto bene anche Atanasievic? Sì, sì, abbiamo tenuto bene Atanasievic, però Perugia c'erano comunque altre batterie di attaccante che erano anche in gambe oggi, però oggi è vero che lui non ha fatto la solita partita, anche in merito nostro. Direi la maniera migliore per arrivare a Belgorod, una vittoria che davvero dà molto morale per questa partita decisiva in Champions. No, sì, ovviamente. Tanto quando vai a affrontare una squadra come Belgorod, sempre con una vittoria è sempre meglio. Ovviamente, quindi adesso dobbiamo pensare non a riposarci perché non abbiamo il tempo di riposarci, però ovviamente di andare a Belgorod sicuro e con il dovere di fare tutto per provare a strappare quello che c'è. Grazie.